Chiusura negativa per Piazza Affari che dopo le buone performance degli ultimi giorni oggi ritraccia chiudendo un ribasso dello 0,52%. In calo anche Parigi con un meno 0,24% e Francoforte con un 0,62%, mentre Londra segna un leggero rialzo dello 0,15%. Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 3,25 miliardi di euro, dai 3,63 miliardi della seduta di ieri. Su 339 titoli trattati, 186 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 124. Pesanti le perdite di Ux che lascia sul campo il 3,75% e MPS con un meno 2,05%, mentre in positivo si segnalano Azimut con più 1,43% e Saipem più 1,39%.